Sì, uno è la musica, numero due i soldi e numero tre è... È chiaro. Ma... è chiaro. Chiudi prego. Non voglio. L'amore è al terzo posto? Certo che è al terzo posto, finché non mi capita di incontrare qualcuno che riesca a farmi capire l'idea. Se tu... se tu vuoi forse riesci a farmi cambiare l'idea. E allora è possibile che il numero tre diventi il numero uno, che il numero uno diventi il numero tre e il numero due... Aspetta, no, no, adesso mi sono confuso. Se metto il numero due... Devi mettere i due al posto del tre. Ah, e così funziona, fammi ricominciare perché ho perso il filo. Il numero tre diventa il numero uno. Il numero due e il numero tre? Esatto. E quando hai questo, allora vuol dire che hai trovato il magico accordo. Cos'è il magico accordo? Il magico accordo è quando sei in sintonia con la vita, Franzi. Quando nella vita hai tutto quello che vorresti avere, tutto quanto. Hai la donna che vuoi, fai la musica che vuoi e riesci anche a fare un po' di soldi. Questo è il magico accordo. Un, due, tre, quattro.